Se il governo mantiene la promessa di fare questo decreto legge entro lunedì, noi saremo in grado finalmente di pagare qualcosa come 7 miliardi di pagamenti, di debiti che non abbiamo nei confronti delle imprese, che abbiamo in cassa ma che non possiamo pagare per il patto di stabilità e quindi questo sarà possibile non appena partirà il decreto.